Il mondo del gossip è in fermento per un'inaspettata e intrigante storia d'amore che coinvolge l'attrice Micaela Ramazzotti. Dopo la sua separazione dal regista Paolo Virzi, sembra che il cuore di Micaela abbia trovato rifugio tra le braccia di un personaggio noto per la sua partecipazione a un reality show sui Tamarri, Claudio Pallitto. Ricordati di iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. Le voci riguardanti una possibile relazione tra Micaela e Claudio hanno iniziato a circolare online, facendo sussultare i fan e scatenando l'interesse dei media. Anche il sito del Corriere della Sera ha riportato la notizia, gettando ulteriore benzina sul fuoco del gossip. Claudio Pallitto, 38 anni, è un personal trainer con la passione per lo spettacolo. Ha gestito una palestra a Roma nella zona Appia, ma sembra che il suo cuore appartenga ancora al mondo dello showbiz. Le foto che circolano sui social mostrano Micaela e Claudio insieme al mare e la Ramazzotti avrebbe addirittura concesso di essere taggata nelle immagini, alimentando ulteriormente le speculazioni sulla loro relazione. Un dettaglio curioso potrebbe essere il luogo in cui i due si sono conosciuti. Claudio Pallitto è apparso come comparsa nel film Siccità, diretto proprio dal suo ex marito Paolo Virzi. Questo ha portato a ipotizzare che Micaela e Claudio si siano avvicinati sul set del film. Ma le sorprese non finiscono qui. Sembra che Claudio sia stato ingaggiato per una piccola parte nel primo film da regista di Micaela, intitolato Felicità, che sta attualmente girando. Se queste voci si rivelassero vere, sarebbe sicuramente una storia d'amore insolita e affascinante. Tuttavia, per il momento, sia Micaela che Claudio non hanno confermato né smentito queste indiscrezioni, lasciando il pubblico con il cuore in sospeso e il gossip a imperversare. Solo il tempo dirà se questa nuova coppia nel mondo dello spettacolo diventerà una realtà o rimarrà solo un'effimera speculazione mediatica. Tu cosa ne pensi? Fammelo sapere con un commento, lascia like ed iscriviti. Ci vediamo al prossimo video!